Così come avvenuto per altre categorie lavorative considerate a rischio, questa mattina è toccato anche agli agenti della Questura di Salerno della Polizia di Stato sottoporsi al tampone oro faringeo per verificare la possibile positività al coronavirus. I tamponi sono stati effettuati allo stadio Arechi con una postazione ambulante della Croce Rossa ed in a sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria. Da questa mattina in coda davanti allo stadio Arechi circa 3-400 agenti della Polizia di Stato che si sottoporranno allo screening predisposto come dicevamo per le categorie lavorative ritenute a rischio. Con l'ausilio dei volontari della Croce Rossa gli agenti vengono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea prima di poter accedere auto dopo auto all'interno dello stadio Arechi dove viene effettuato il tampone e verificata la possibilità al contagio.